Il QR code dell'invalidità civile è un nuovo servizio dell'Inps che consente di attestare lo status di invalido direttamente dal proprio smartphone o tablet senza bisogno di avere con sé il verbale sanitario. Si tratta di uno strumento innovativo che permette quindi di accedere in modo facile e veloce alle agevolazioni e ai benefici di legge riservati agli invalidi, sconti, esenzioni, accessi preferenziali, servizi di assistenza, sgravi fiscali eccetera. Il QR code è un particolare codice a matrice in grado di memorizzare informazioni leggibili e interpretabili da dispositivi mobili. Garantisce informazioni sempre attendibili perché è associato all'interessato e non ad uno specifico verbale ed è dinamicamente aggiornato a seguito di verbali definitivi di prima istanza, di aggravamento, di revisione, di verifica straordinaria o di autotutela. Il servizio è rivolto a tutte le persone con giudizio sanitario definitivo negli archivi Inps di invalidità civile che abbiano esigenza di attestare lo stato di invalidità per avere accesso ad agevolazioni, esenzioni e sconti previsti per legge da parte di enti pubblici come ad esempio agenzia delle entrate, regioni, comuni o da parte di soggetti privati. Per ottenere il QR code è disponibile servizio online generazione QR code invalidi civili per attestazione status sul sito www.inps.it cui si accede con le credenziali PIN, SPID, carta nazionale dei servizi o carta di identità elettronica. Si ricorda che dal 1 ottobre 2020 l'Inps non rilascia più il codice PIN. Il servizio genera automaticamente e in tempo reale il QR code direttamente in formato PDF. Il codice può essere stampato, inviato, salvato sul proprio computer o dispositivo mobile ed esibito in tutte le occasioni in cui è necessario per accedere ad un'agevolazione prevista dalla normativa. I gestori dei servizi possono reggere il codice tramite un qualsiasi lettore QR code per controllare lo stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità o handicap ed è possibile ottenere anche un esito più approfondito per la concessione di alcune particolari agevolazioni che richiedano il giudizio sanitario e il grado di invalidità civile con un eventuale percentuale. In Abruzzo, al 31 agosto 2020, le prestazioni assistenziali per l'invalidità civile sono state di 80.039 unità, suddivise così per ogni provincia. 19.744 nella provincia di Chieti, 19.854 nella provincia di L'Aquila, 19.914 nella provincia di Pescara, 20.527 nella provincia di Teramo. È stato anche riavviato il servizio medico legale in presenza dopo la sospensione legata al periodo emergenziale Covid per la revisione sanitaria degli utenti, ad eccezione dell'attività di primo accertamento medico svolta ancora dalle ASL della Regione.